Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6. Atteso a giorni il rientro a Pianella della Salma della piccola Giulia Maiano di soli 13 mesi deceduta per una tragica fatalità in Egitto. A farsi portavoce dello stato d'animo della famiglia il sindaco della città Sandro Marinelli, il servizio di Stefano Recanati. Hanno fatto rientro a Pianella nella tarda serata di domenica. Silvio Maiano e Veronica Ambrogio, i genitori della piccola Giulia di soli 13 mesi morta tragicamente dopo essere precipitata da un balcone di un hotel di Sharm el Sheikh mentre si trovava proprio tra le braccia del papà. Il corpicino della piccola invece è stato trasferito in un ospedale italiano a Il Cairo e dovrebbe far rientro a Pianella tra mercoledì e velerdì. La famiglia ha chiesto di vivere il proprio dolore nella più totale riservatezza almeno fino a quando la piccola Giulia non sarà riportata a Pianella. Stiamo cercando di stare vicino alla famiglia che ha espresso la più che comprensibile volontà di vivere questi primi giorni nell'ambito delle ristrettezze della famiglia d'origine e ringraziare tutti per le varie manifestazioni, tantissime manifestazioni di vicinanza e di affetto che in ogni modo sono giunte ma al momento chiedono di poter mantenere questa situazione di riservatezza e che non riescono proprio ad avere rapporti con l'esterno. Una tragedia che ha gettato nello sconforto più totale l'intera comunità pianellese. I Maiano infatti sono molto conosciuti in paesi per essere titolari di un'impresa di pulizie. La reazione della comunità era prevedibile, poi si aggiunga a questo un dato di coesione sociale che la nostra cittadina da sempre esprime e che ovviamente amplifica ancora di più sia il dolore che la partecipazione. Una volta rientrata la salma sarà allestita da Camera Ardente, prima dell'ultimo saluto nella chiesa dove circa un anno fa era stata battezzata. Questo dipende appunto dal rientro della salma, se dovesse rientrare entro giovedì probabilmente sarà possibile fare i funerali durante la settimana. La ASL Lanciano Vasto Chieti ha sospeso l'attività del drive-in di Vasto dove si eseguivano i tamponi molecolari a causa di ripetuti atti di vandalismo. La ASL ha presentato formale denuncia di quanto accaduto alle autorità competenti. Per la terza volta nelle ultime settimane i vandali si sono introdotti nella postazione allestita in Via Don Milani e hanno rovesciato e danneggiato le attrezzature presenti all'interno e all'esterno della struttura. Mi scuso con i cittadini, afferma il direttore generale della ASL Thomas Schell, per il disservizio che devono subire a causa del mancato rispetto del bene comune. Ho già avvisato il sindaco di Vasto Francesco Menna, al quale ho garantito che la postazione sarà comunque riaperta in caso di peggioramento della situazione pandemica nel Vastese. Da martedì 31 maggio tornerà intanto attivo il drive-in alla Fiera di Lanciano per due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 13.30. Dalla settimana prossima la postazione di Chieti sarà aperta il lunedì, mercoledì e venerdì, negli stessi orari. Inaugurata questa mattina a Roseto degli Abruzzi la nuova sede della tenenza della Guardia di Finanza, intitolata al tenente colonnello Umberto Adamoli, medaglia d'argento al valore militare. Jacopo Forcella. Inaugurata questa mattina la nuova sede della tenenza della Guardia di Finanza a Roseto degli Abruzzi, intitolata ad Umberto Adamoli, tenente colonnello, medaglia d'argento al valore militare e servitore della Paria nella Prima Guerra Mondiale e anche protagonista di atti d'eroismo dopo il secondo conflitto durante l'occupazione tedesca. Presente, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose della regione e della provincia, il comandante interregionale dell'Italia Centrale, generale di Corpo d'Armata, Andrea De Gennaro. E diciamo che questo è anche un segno di rinascita e di rilancio di tutta l'attività, anche dell'attività delle forze di polizia, ma ci auguriamo di tutta l'attività di tutti gli imprenditori, di tutti i cittadini, tornare a vivere normale. Ma intanto la dislocazione di una delle migliori competenze per quanto riguarda il servizio allo Stato, il servizio alla Repubblica, perché la Guardia di Finanza vuol dire dedizione, approfondimento, conoscenza, polizia economico-finanziaria e vuol dire anche il rispetto e il principio di concorrenza nei confronti di coloro i quali magari dentro al mercato provano a fare i furbi. Io sono venuto in ragione della competenza che ho all'interno della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, di cui sono Presidente, e voglio testimoniare il riconoscimento dell'ordinamento nei confronti di questa specialissima attività di giovani, esperti, di persone che sono in cammino al servizio della Repubblica. Roseto città sicura, Roseto città accogliente, un presidio importante in una zona della città in via di espansione. Ovviamente ci hanno lavorato diverse amministrazioni, mi onoro e ci siamo impegnati da subito a che questo non fosse più un sogno ma una realtà. Oggi è un grande orgoglio per il Sindaco di Roseto inaugurare questa sede importantissima. Non siamo nel centro della città, non siamo nella piazza, non siamo nella strada principale, siamo in periferia, nella periferia sud. È proprio qui che c'è bisogno di un presidio, di una presenza, di una forza di polizia che dia maggiore sicurezza alla popolazione e che sia punto di riferimento proprio per questa zona. Presidio quello di via Fonte dell'Olmo che è una doppia valenza perché torna nelle mani dello Stato a guardia della legalità e soprattutto dopo essere stato strappato ad una famiglia dedita all'usura. È anche un valore simbolico perché si tratta di un immobile che a suo tempo fu strappato alla criminalità, è stato confiscato e adesso viene restituito al servizio della cittadinanza. Questa è stata una prima misura di prevenzione che è stata fatta dai carabinieri nel lontano 1990 ad una famiglia che viveva di reati vari ma soprattutto usura. Per cui poi si è arrivato col tempo alla confisca e al passaggio del bene direttamente di proprietà dello Stato. Scaglia un grosso sasso contro il vetro blindato dell'ufficio postale di Sante Osagno del Sangro in provincia di Chieti. Pretendendo dall'impiegato soldi che sul suo conto corrente non c'erano con l'accusa di tentata rapina aggravata e interruzione di pubblico servizio il GIP di Lanciano Massimo Canosa ha disposto l'arresto in carcere di un uomo del posto di 43 anni. L'episodio è avvenuto lo scorso 16 maggio dopo le indagini e le analisi delle telecamere. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Lanciano e della stazione di Castelfrentano coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Orlando su decisione della procura frentana. L'uomo ha reagito furiosamente alla notizia data dall'impiegato che il suo conto era completamente in rosso. Si è armato di un grande sasso e lo ha minacciato danneggiando inoltre la vetrata antisfondamento posta a protezione degli operatori postali. Allontanandosi dall'ufficio postale ha gettato a terra sgabelli delle poste e tavolini di un bar allestiti sul marciapiede. Domani è stato fissato l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP. E da domenica a notte le marinerie abruzzesi sono tornate a scioperare per il caro gasoglio. La situazione è sempre più difficile. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Da tre giorni ormai le marinerie italiane sono tornate ad incrociare le braccia per protestare contro il caro gasoglio. A Pescara questa mattina gli armatori della flotta adriatica sono tornati a riunirsi per parlare delle azioni da intraprendere. La situazione è sempre più difficile anche perché al momento non sembrano esserci spiragli per un abbassamento del prezzo del carburante. E così il rischio di non avere sulle tavole pesce fresco è sempre più reale. Qui non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Ieri c'è stato un incontro con il sottosegretario, un muro di gomma perché ci ha lasciato come qualche mese fa a Roma. Ma ha detto che non era competenza sua, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Economia e insomma muro in pallo senza concludere nulla, senza ottenere nulla. Il problema è anche un altro, non è solo della marineria ma anche della ristorazione, dei punti vendita perché c'è il rischio di non avere il pesce sulle tavole degli abruzzesi. Quello in premisse, ma poi l'indotto è veramente ampio dai trasporti ai cantieri navali, ai rivenditori di attrezzature per la pesca e quant'altro. Cioè qua se ci fermiamo rimangono in ginocchio diverse categorie. Noi se lo Stato qualcuno non ci aiuta in qualche maniera non ce ne sono le vie di uscita. Se la situazione rimane questa non se ne esce fuori. Se la situazione non cambia qualcosa qui non ce ne sono delle soluzioni. Taglio del nastro nella sede di Teramo della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia dello sportello ZES, zona economica speciale. Si tratta di una opportunità per ottenere importanti agevolazioni fiscali previste dallo Stato a favore delle imprese. Un volano per l'economia post-sisma del territorio. Taglia Bonnici Castelli. Inaugurato nella sede di Teramo della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia lo sportello ZES, acronimo di zona economica speciale. Un'opportunità di rilancio per tante imprese locali che su richiesta potranno ottenere importanti sgravi fiscali. Nel Teramano soprattutto, ad usufruirne, saranno le aziende legate all'impiantistica dell'automotive, alla pelletteria e all'agri-food. Siamo contenti di poter aprire questo sportello camerale che è molto importante da un punto di vista fattivo e simbolico. Vogliamo rilanciare comunque la città di Teramo a livello camerale. La nostra presenza qui si è raddoppiata in termini proprio di numeri. Come sapete al momento la sede di Teramo è l'unica sede attiva sul territorio proprio perché abbiamo voluto dare centralità alla città. Avete idea di quante aziende potranno fare richiesta? Tenga presente che noi abbiamo 37 comuni in tutto l'Abruzzo. Questi 37 comuni potenzialmente ci sono aziende già insediate in maniera significativa. Di questi comuni 23 sono nel Chietino, il che vuol dire che tutta la zona industriale di Chieti, e in particolare penso al mondo dell'automotive significativamente, possono chiedere quelli insediati, ma possono esserci anche aziende che non sono insediate. L'unica cosa che credo per quanto riguarda Teramo, visto che siamo qua, le aree più interessanti sono quelle collegate nei supply chain, quindi nelle catene, nelle filiere produttive, nel settore dell'agri-food e nel settore della pelletteria e della moda. Al taglio del nastro dello sportello ZES di Teramo è intervenuto anche il commissario speciale per la ricostruzione, Giovanni Legnini, che ha sottolineato come questo ulteriore strumento di agevolazione possa essere il volano giusto per una vera ripresa dell'economia post-sisma. Importante e molto positivo, la zona economica speciale è uno degli strumenti per implementare una nuova stagione di attrattività e sviluppo per la nostra regione. L'altro punto è il fondo complementare al PNRR per le aree dei due terremoti che coprano gran parte del territorio delle province di Teramo e L'Aquila e una parte della provincia di Pescara e poi il PNRR, la nuova programmazione comunitaria. Insomma, la nostra regione a partire dalla ZES ma con tutti gli strumenti che ha a disposizione può oggi tornare ad essere molto attrattiva. Prosegue l'interlocuzione con Roma da parte del Comune di Pescara dopo la sentenza della Corte Costituzionale che obbliga l'ente a restituire in 10 anni e non più in 30 il prestito di 33 milioni di euro per evitare il dissesto finanziario. Fiducioso l'assessore Eugenio Seccia. Vediamo. Quali sono le novità rispetto ad oltre un mese fa quando c'era stato questo grido d'allarme lanciato dall'amministrazione comunale in merito a questo debito che l'amministrazione deve restituire non più in 30 anni ma in 10? C'è un'interlocuzione continua da parte del sindaco Carlo Masci che è andato anche a Roma con una pattuglia, se così la possiamo chiamare, di parlamentari circa due mesi fa. Una interlocuzione diretta del sottoscritto con l'Anci e l'IFEL perché ricordiamo questa non è una problematica che riguarda solamente Pescara, è una problematica che riguarda il sistema degli enti locali che ovviamente hanno subito questa sentenza della Corte Costituzionale che è fuori luogo rispetto alla realtà perché è come dire ad un operaio che prende uno stipendio e viene concesso dalla banca un mutuo a 30 anni restituisce questo mutuo per acquistare la prima casa in 10 anni. Quindi è fuori dalla nostra portata, noi la stiamo gestendo, siamo fiduciosi per le nostre interlocuzioni che verrà risolto il problema e è ovvio che ci attendiamo come abbiamo più volte detto ai tecnici perché ovviamente è anche un fatto tecnico questa attenzionare il governo che abbiamo necessità di circa 12 milioni e mezzo di euro perché a tanto ammonta il residuo non restituito degli anni precedenti quindi dalla sentenza in poi più ovviamente l'anno 2022 che impatterebbe da circa un milione e cento a un milione e nove per due quindi ovviamente si triplicherebbe quello che è l'impatto del drenaggio di soldi di liquidità dal comune e farebbe venire meno molte attività. Ovviamente al governo ci sono persone ragionevoli che conoscono queste tematiche degli enti locali e quindi siamo fiduciosi che venga risolto. Abbiamo dei feedback in tal senso, aspettiamo che ci sia l'ufficialità, la cristallizzazione di questa situazione. Prima i comuni erano 21 in un plafondo di 22 milioni di euro, sono stati tirati fuori Napoli per un miliardo e 200 mila euro, Torino per un miliardo e cento e Reggio Calabria, quindi si è abbassato la quota dei comuni che devono attingere a questo plafondo e quindi presumibilmente Pescara salirà come quota di assorbimento di questo plafondo. Quindi è una questione del carattere ragioneristico centrale che a giorni, spero a brevissimo, venga definita cristallizzata e ci venga comunicato in modo da mettere Pescara nel pieno della programmazione finanziaria. La musica come mezzo per la pace è l'obiettivo con cui la città di Chieti ha adottato l'orchestra Virtuosi di Kiev, togliendo alcuni di loro in età militare dal conflitto ucraino. Vediamo il servizio. Come la musica può far dimenticare scenari tristi e tragici come quelli della guerra in Ucraina? Sempre la vita umana, la musica, non solo classica, la musica, tutta la musica ha dato molto alla gente per olvidare, se posso dire in lingua italiana, cose che sono triste nel mondo. Noi possiamo fare i concerti della musica che passiamo e tutto che possiamo fare, e noi entriamo in politica, possiamo controllare che passi in questo mondo abbastanza difficile, sempre difficile, non solo oggi. Da qui a Chieti può partire una nuova vita, una nuova speranza per questi ragazzi? Sì, sì, certo che possiamo avere una chance per stare qui a Chieti, una città bellissima, quella zona Abruzzo, fantastico, e con questo teatro del Dio che possiamo fare concerti qui, possiamo anche fare delle gestioni, dischi, video, è un chance fantastico per noi. Come collaborerete? L'orchestra è un'orchestra da camera, i Virtuosi di Kiev, sono circa 20 elementi, loro sono qui sul territorio naturalmente per spendersi, per il nostro territorio naturalmente per donare arte e cultura, ma anche per concerti di solidarietà, a favore dei rifugiati, diciamo per creare umanità, per creare un sentimento di forte umanità, unione e condivisione. Sappiamo che alcuni di questi componenti sono stati sottratti proprio alla guerra. Come no? Infatti siamo riusciti a far venire prima le donne e poi c'è stato il lavoro un po' più difficile per far venire gli uomini che avrebbero, in caso contrario, in caso non fossimo riusciti a farli venire in Italia, sarebbero dovuti partire per il fronte. Quindi abbiamo avuto due risultati, quello culturale e quello umanitario. Indubbiamente il Teatro Marocino si conferma un punto di riferimento anche per quanto riguarda il proprio prestigio, perché se su tante realtà teatrali e culturali è stata scelta la città di Chieti da parte, a seguito del nostro appello e del nostro invito, ma da parte dell'orchestra e del governo ucraino è stato recepito positivamente questo invito e soprattutto merito del nostro teatro e quindi insomma si riconferma sempre un punto di riferimento autorevole a livello nazionale per quanto riguarda la cultura e per quanto riguarda la musica. Presentato questa mattina il lavoro delle giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pesca Serro in programma a Montesilvano il 26 e 27 maggio. Vediamo. Montesilvano sarà la sede delle iniziative previste per la chiusura del lavoro delle giurie popolari del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pesca Serroli, un evento diviso in due parti ma che torna in presenza dopo due anni nei quali la manifestazione si è tenuta in video a causa delle prescrizioni dovute alla pandemia. Il primo evento di Montesilvano avrà luogo giovedì 26 maggio con inizio alle 10 nella sala Abruzzo del Paladin Martin. Siamo molto felici e onorati di ospitare l'assemblea finale delle giurie popolari di questo prestigioso premio che fa tappa quest'anno a Montesilvano, c'è una sinergia peraltro tra Montesilvano quindi una località costiera e Pesca Serro nella località di montagna e questo rende il tutto ancora più affascinante a dimostrazione che il nostro territorio sinergicamente unito può davvero dare tanto e in questo caso si parla di cultura e noi siamo molto felici perché la cultura è un elemento davvero molto importante per un territorio e quindi avere questa bella iniziativa sul nostro territorio peraltro con la collaborazione anche dell'Istituto Alessandrini di Montesilvano rappresenta qualcosa di davvero importante. Questo è un premio prestigioso lo abbiamo detto di carattere internazionale ma anche come amministrazione stiamo portando avanti iniziato lo scorso anno la prima edizione ci sarà una seconda edizione di un festival letterario oltre le parole che abbiamo proprio costituito qui a Montesilvano a dimostrazione di quanto la cultura e l'arte vogliono in qualche modo essere presenti e debbano essere presenti sul nostro territorio. Lo sport non si registrano sostanziali novità sul fronte della trattativa per la cessione del Pescara ieri il sindaco Carlo Mascia Replay ha confermato di aver incontrato persone interessate ai lavori di riqualificazione dello stadio. Vediamo. Tante voci ma sostanziale fase di stand by nell'ambito della trattativa societaria per il Pescara nei giorni scorsi il presidente onorario Marinelli aveva parlato dell'interessamento di un gruppo che poi ha dirottato le sue mire su Palermo, chiaro il riferimento al City Group proprietario del Manchester City e di tanti altri club al mondo. Non più tardi di due giorni fa ha parlato nuovamente il presidente Daniele Sebastiani che ha detto Sono convinto di rafforzare la società perché il Pescara merita sicuramente di stare in una piazza diversa non fosse altro che quello che abbiamo costruito fino adesso. Afforzare la società significa che magari arriva qualcun altro molto più bravo di me e fa meglio se poi non dovesse arrivare e io sto qua, sono stato per 13 anni e la quattordicesima stagione mi fa paura quindi sicuramente l'obiettivo è quello però vedremo stato facendo. Insomma per quanto lo stesso Sebastiani abbia svariati contatti non sembra essere vicino il momento di una reale cessione societaria mentre le ipotesi più verosimili sembrano o un allargamento della base societaria oppure una prosecuzione a pieno regime della proprietà Sebastiani che avrebbe come conseguenza un progetto tecnico che vorrà essere sì ambizioso ma puntando sui giovani. Ieri sera nel corso di replay ha rivelato alcuni dettagli il sindaco di Pescara Carlo Masci che giorni fa è stato coinvolto da Sebastiani, il primo cittadino nella sede del Pescara ha incontrato alcune persone, italiane d'origine ma che operano all'estero Masci non si è sbilanciato sui nomi, l'incontro è stato rapido e i nominativi si sono persi nell'ambito delle presentazioni argomento principale la fattibilità di lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia fattore fondamentale evidentemente per attrarre investitori dall'estero. Il comune e la regione sono disponibilissimi dove dovesse arrivare una proposta di riqualificazione dello stadio di Pescara ovviamente nel rispetto della normativa collegata ai beni ambientali perché è fondamentale. Oggi gli imprenditori vanno dove possono ottenere riscontri ai loro investimenti e questo avviene solo in alcune città, non avviene in tutte le città dopo il Covid. In quei pochi minuti in cui siamo stati con queste persone devo dire che loro hanno sottolineato l'interesse anche per questa città. Io l'impressione che ho è che questa città sia molto appetibile dal punto di vista degli investimenti e ho avuto anche questa sensazione parlando con queste persone. La Vastese è l'unica squadra, parliamo chiaramente di Serie D, l'unica squadra abruzzese a partecipare ai play-off. Domani la squadra di D'Aderi ospiterà a Roma alle ore 16 in semifinale il Trastevere. Ascoltiamo il direttore generale Andrea Masciangelo che annuncia come il presidente Bolami e il vice Scafetta potrebbero dare continuità alla società. Agna Cantagalli. Direttore, a parte i gavettoni per i festeggiamenti, alla fine della partita l'abbiamo visto anche con Moss perché è un risultato importante per la Vastese per cui lei ha lavorato tanto. Perché per me Vasto è una mia seconda famiglia, quindi questo è il terzo anno e da novembre quando poi la società mi ha dato anche la parte tecnica ho sentito dentro un dovere di far sì che tutti insieme, ringrazio tutti i collaboratori, tutto lo staff, dal magazziniere all'ultima persona, a tutti i giocatori, alla società che non ci ha fatto mancare niente abbiamo detto in una riunione appena dopo la sconfitta di Reganati la domenica mattina ho chiesto il loro aiuto e gli ho detto che se loro mi aiutavano saremmo arrivati a una bella cosa perché io ci ho sempre creduto, questa è una squadra che dà i valori importanti, è uno staff tecnico importante non ce lo dimentichiamo che lavora 24 ore al giorno per Vasto. Vasto è una città che merita questo, il Presidente lo dedico a loro, al Presidente Bolami, a Scafetta al Presidente del Settore Giovanni e Salvatorelli perché la vastese deve viaggiare ogni campionato su questi livelli, poi playoff non playoff ma deve essere, ho saputo in base ai risultati che siamo quest'anno la prima abruzzese a dover fare i playoff, Vasto merita questo. Adesso il campionato per l'appunto prosegue contro il Trastevere. Sicuramente i playoff è una partita diversa, lì ci siamo andati qualche settimana fa e senza la vittoria lì sicuramente oggi non stavamo parlando di playoff, dopo che purtroppo in casa col Fiuggi avevamo perso, però è una squadra che combatte, ci crede, tutti insieme e da domani ci metteremo al lavoro e andremo a fare la nostra partita sicuramente a testa alta e con la voglia di magari continuare un sogno. Lo conosce bene, secondo lei ci sono possibilità per Bolami che alla fine cambia idea in ottica prossima stagione? Se ti leggo il messaggio capisci, ha detto che lui ha costruito questa società, questo gruppo insieme a Scafetta e Salvatorelli e con il cuore ha detto saluta i ragazzi e digli che non mollerò mai, quindi quello che avevo detto a partita con l'Alto Casertano spettava anche a noi a dare la spinta a una società perché nel calcio non è vero che i presidenti devono solo tirare fuori i soldi, c'è un gruppo di lavoro e il gruppo di lavoro deve adempiere a degli obiettivi. Noi abbiamo adempiuto e posso già dire, a meno che non si rimangere la parola, mi ha scritto che continuerà e quindi sarà con noi e sicuramente verrà in trasferta a Trastevra. E ora il volley, l'Abbapinetto non riesce a trascinare la serie finale a gara 3 e abbandona le speranze di promozione in A2. Dopo aver vinto la prima partita in casa, Prata di Pordenone ha espugnato in 4 set il Pala Santa Maria, la società pinetese ritenterà il salto di categoria nella prossima stagione. Sergio Zappalorto. Prendono il via da oggi fino a domenica 29 le finali nazionali under 19 maschili tra Alba, Tortoreto, Martinsicuro, Mosciano, Sant'Angelo e Colonnella. Le immagini però riportano al crudo e amaro commento del mancato approdo alla bella nel contesto della finale di A3 in cui, in gara 2, il pineto cede le armi al neopromosso con merito Prata di Pordenone. L'Abbap, cospetto dell'ennesimo pienone, rinvia il discorso 2 alla prossima stagione. Sconfitta Bertoliana in gara 1 per 3 a 1, stesso punteggio al Pala Santa Maria ma con modalità diverse e che inducono a farsi sangue guasto se si ripensa al 24-22 del quarto set, a un soffio dal tiebreak che avrebbe potuto avere una conclusione ben diversa da una inaccettabile rimonta dal 24-22 al 24-26. Ma tant'è, gli applausi meritati comunque vanno alla società in primis e alla squadra che ha speso il massimo contro un manipolo di giovani dal futuro assicurato. Pazienza solo quella in quest'ultimo turno che, dopo le tristissime otto retrocessioni del nostro Abruzzo, ha travolto anche in B2 femminile il Teramo, liquidato pur con parziali risicati dal Ponte San Nicolò. Patavine vittorioso per 3 a 0. Chiudiamo in bellezza anche se sul fronte regionale, mentre in campo maschile il Montorio vincente a Montesilvano attende l'altra finalista di C, tra Pescara 3 e Termoli, sul fronte femminile il Serie C, un super Cepagatti, nelle immagini, batte 3 a 0 un pur ottimo Junior Ortona e accede con tre turni d'anticipo in B2. Uno speciale sul trionfo delle ragazze di Chiavaroli verrà mandato in onda domani nel corso di Pallavolè, inizio ore 21. E tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione ITG delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.